Ciao ragazzi, un saluto da Pietro Spataro. Oggi analizziamo assieme la settima giornata di Serie A, tranne Brescia-Sassuolo. E parlerò un pochino del giorno dopo di Inter-Juventus. Allora, andiamo subito. Spalle Parma 1-0. Spalle, l'ho detto che vinceva, dai. C'è, ho visto il gol della Spalle che il tiro è diventato un assist per Petagna. E poi ha tirato subito, che hanno vinto così la partita. Eppure in dieci resiste e porta a casa il risultato. Quindi la Spalle torna a vincere dopo la vittoria contro la Lazio. E ha sei punti. Verona-Sandoria 2-0. Sandoria davvero scandalosa quest'anno. Risca di andare in Serie B se continua così. Guagliarella non mi sta piacendo quest'anno. L'anno scorso è stato capocannoniere del 2006 con 26 reti. Il Verona è andato in vantaggio forse sul calcio d'angolo e poi sul calcio di punizione. Ma avete visto l'autogol di Murru? C'è, ha anticipato proprio il suo compagno di squadra che è il suo portiere. Che hanno perso così la partita. Genoa-Milan è 1-2. Ancora non vi inconvince di come gioca il Milan. Alcuni tifosi dicono che lo esonereranno a Giampaolo o viene Spalletti. Allora, il Genoa è andato in vantaggio con il gol di Lasse Schöne di punizione. Reino si è fatto scappare di mano. Reino può fare qualche cappellata. Non è un gran portiere. Fidatevi, cari tifosi milanisti. Eppure si è riscattato il rigore parato su Schöne. Si, ha segnato il pareggio del Milan con... Com'è che si chiama? Fammi indovinare. Teo Hernandez. Da posizione impossibile. Poi calcio di rigore per il Milan. Per fallo di mano. E poi Biraschi non so per quale motivo è stato espulso. Per... Non so. Ah, per fallo di mano. Non è che cosa... Non ha detto niente Biraschi all'arbitro. Ah, c'è pure un'espulsione. Ha espulso anche Saponara dalla panchina a fine primo tempo. Allora, che si dal dischetto fa il 2-1. Calabria già monita. E rimane in imparità numerica. Poi, calcio di rigore per il Genoa. Per il fallo su qua a me. Che ho visto nel replay che non l'ha toccato Reina. E non era calcio di rigore. E l'ha pure... È grande Reina che lo para. E poi Castillejo. Non dal campo. Condotta antisportiva. Espulso Castillejo dalla panchina. C'è il 4-Rossi in questa partita. Non penso a uno delle partite da criminali in questo modo. Quelli che non sanno perdere addirittura. Poi andiamo avanti. Fiorentina-Udinese 1-0. La segna Milenkovic su calcio d'angolo. E la decide così. Poi, Roma-Cagliari. 1-1. Non sta andando benissimo la Roma. Gli si è pure infortunato diavarà. E questo non ci voleva. Si stanno infortunando tutti nella squadra romana. E può capitare sfortuna o non sfortuna. Il Cagliari è andato in vantaggio sul calcio di rigore per fallo di mano. Forse era stato Mancini a prenderla con la mano. E è andato dal dischietto Joao Pedro e ha segnato. Il gol dell'1-0. Poi la Roma ha pareggiato con un autorete di Cepitelli. Se non ci fosse stato l'autorete di Cepitelli, vinceva sta partita il Cagliari. Gli ha annullato pure il 2-1 di Kalinic per la spinta al novantesimo. Ed è giusto annullare il gol a Kalinic. Ed è finita così 1-1. Pareggio d'oro per il Cagliari. Bologna-Lazio 2-2. Che partita al primo tempo, va! Bologna è andato in vantaggio con... Con Crecci. Se non vado errato, vediamo un po'. Sì, Crecci. Poi pareggia dopo due minuti Ciro Immobile. L'1-1. Poi Palasio fa il 2-1 dopo che è stato ribattuto sul palo. E poi la ripareggia ancora Ciro Immobile. È 2-2. Nel secondo tempo è successo da criminali che... Lucas Leiva prima si fa muonire e poi si fa espellere. Poi anche Medelle si è fatto espellere da ultimo uomo. Che era partito in contropiede Correa. Poi calcio di rigore per la Lazio e lo sbaglia Correa. Non ha mai tirato un rigore. Correa se... Se c'era Ciro Immobile... Non lo sbaglia... Lo segnava la Lazio e vinceva la partita. Ormai è andata così. Atalanta-Lecce 3-1. Grande Atalanta. Questa squadra mi sta piacendo, la Dea. Allora, il 3-1 che ci sta. Ha segnato prima Duvan Zapata. Poi Gomet... Alejandro Gomets. E poi fa il 3-0 Gosens. E poi accorcia Luciano. Luciano, se non vado errato. Vediamo un po'. No, Luciani, Luciani. E accorcia Luciani. Su calcio piazzato ha segnato il Lecce. Torino-Napoli 0-0. Partita inviolata questa. Partite con le reti bianche. Hanno difeso entrambe bene le squadre. E niente. È la partita più tanto attesa. Inter-Juventus 1-2. Allora, io lo commento a freddo sta partita. Allora. Si è partita forte la Juventus con Di Bala che ha segnato subito la rete del vantaggio. Questo l'ho già detto. Poi non ho detto la traversa di Ronaldo. Ancora tremo la traversa. Oddio mio se segnava così. Bello è stato il gol. Poi era giusto. Il calcio di rigore per l'Inter era giusto. Che ho visto a rallentatore ha toccato prima De Ligt col braccio. Martinez l'ha segnata dal dischetto. È tutto da rifare per la Juventus. 1-1. Poi c'è stato l'infortunio di Sensi. Che è peccato. E di qua era finita la partita dell'Inter. Poi è andato a ri... Un primo tempo equilibrato è stato. Dai. È finito il primo tempo con un risultato di 1-1. Giusto. Poteva anche essere sul 2-1 la Juventus nel primo tempo. Che il gol di Ronaldo era fuorigioco di Dybala. È peccato perché se lo meritava Cristiano Ronaldo quel gol. Poi arriva il secondo tempo e l'ha dominata la Juventus la partita. Che è davvero ottimi tutti. Tranne Bernardeschi. Tranne un po' Bernardeschi. Poi De Ligt è sufficiente gli do. Allora. Ho visto quel tiro di Vessino. Un tiro deviato e poi è andato sul palo esterno. Che... Se entrava questo gol è davvero... Non se lo meritava l'Inter a disegnare questo gol. Parlandosi chiaro. Poi con i cambi. È uscito Bernardeschi al posto di Guain. E Chedira al posto di Bentancur. Ed è cambiata la partita. E ha vinto la partita la Juventus. Con... Il secondo gol della Juventus ha fatto 24 passaggi. Davvero. È come alla Playstation. Un gol pazzesco è stato. Nella stessa porta come due stagioni fa. E poi... Niente. Quindi godiamoci questo primato del girone. Caro tifoso dell'Inter. Accetta la sconfitta. Salutate la capolista. Io spero che questo video di oggi vi sia piaciuto. Vi invito di lasciare un mi piace. Di commentare qua sotto. Se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale se ancora non vi siete iscritti. Se siete appena iscritti cliccate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i miei prossimi video che usciranno. Condividete anche il video. Seguitemi su Facebook e anche su Instagram. Ci vediamo molto presto per i miei prossimi video. Adesso c'è la sosta che fra due settimane inizia l'ottava di campionato. E forza Juve. Ciao belli.